Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo di un autore particolare della letteratura latina un po' più antica, un po' più arcaica, cioè parliamo di Gaio Lucilio, autore di satire nonché fondatore della satira, perché la satira è, assieme alle leggie, l'unico genere letterario romano de Roma, cioè indigeno nato proprio a Roma, inventato, elaborato da un autore romano e non mutuato, come tutti gli altri generi letterari romani, da generi letterari greci. Quintiliano nel I secolo d.C. infatti dirà satura quiden tota nostra est, cioè di sicuro la satira è tutta nostra, con un orgoglio latino romano particolare. La satira è appunto un genere indigeno che viene appunto elaborato su aspetti tecnici, nelle sue caratteristiche formali e contenutisti appunto da Lucilio. Vedremo poi qualcosa su di lui, sulla sua vita, di cui in realtà però sappiamo molto poco. Lucilio volle appunto che la satira fosse un genere poetico e non in prosa e il metro che lui scelse fu quello dell'esametro. La satira latina, la satira romana, ha le stesse caratteristiche, lo stesso scopo della satira odierna. Che cosa fa la satira anche oggi? La satira è un genere umoristico più che comico che facendoci ridere tende a far nascere in noi una riprovazione morale nei confronti dei vizi, deridendo i vizi e deridendo i viziosi, attaccandoli i vizi e o viziosi in modo più o meno pesante, più o meno ironico o più o meno sarcastico. Questo fa la satira. Fondamentalmente detto in termini più semplici, critica facendoci ridere e suscitando in noi quindi il disprezzo per ciò che critica, cioè per i vizi o quantomeno facendoci accorgere che si esistano. Ma in effetti cosa sono questi vizi? Una parola che sembra un po' bigotta, diciamoci la verità. In realtà i vizi sono semplicemente tutti quei comportamenti umani dissonanti rispetto alla morale comune di una società, unanimemente condivisa da una società, ok? Motivo per cui la satira è un genere di tipo moralistico, proprio perché attacca un comportamento, quindi un comportamento diverso dalla morale, contrario, no? Quindi al comportamento comunemente accettato e spesso ne propone uno opposto, perché spesso le satire accanto all'attacco al vizio o al vizioso, a seconda che magari ci si rivolga direttamente alla persona che incarna il vizio, può proporre anche l'alternativa corrispondente e virtù, ok? Rispetto al vizio. Di sicuro il suo intento è quello moralistico, cioè quello di insegnarci qualcosa di giusto, di insegnarci dei comportamenti ritenuti retti, ok? Dalla società corrente, dalla comunità in cui si vive. Ma non lo vuole fare facendoci la predica, il sermone, annoiandoci, lo vuole fare facendoci ridere, suscitando in noi risata e riflessione allo stesso tempo. Per questo è un genere che possiamo definire più umoristico che non comico, scomodando con un vago anacronismo un certo Luigi Pirandello, che distingueva appunto tra comicità e umorismo. La satira appunto utilizza l'ironia oppure il sarcasmo, che è l'ironia molto più più amare, più arrabbiata spesso, contro i vizi e i viziosi, in modo appunto da puntare tutta la sua rappresentazione della realtà, perché spesso di questo si tratta, su un moralismo che è pacato se si usa l'ironia o che è caustico, cioè appunto acceso, infuocato, aggressivo, se si usa invece il sarcasmo. I satirici oggi sono per lo più imitatori, se ci pensiamo, e fanno satira, cioè se la prendono per lo più contro chi? Beh, contro quelle figure sociali che disturbano più di tutta la società con i loro comportamenti scorretti, ritenuti scorretti. Ragazzi, sto parlando ovviamente di satira politica. Vi siete mai chiesti perché quasi tutti i comici un po' più aggressivi, cioè quelli che fanno satira, se la prendono praticamente sempre con i politici. Beh, perché noi dai politici ci aspettiamo l'onestà, quindi quando un politico non è onesto noi ce la prendiamo molto di più con lui che non con il nostro semplice vicino di casa, no? Con il cittadino comune, perché il politico ha la responsabilità morale di amministrare la cosa pubblica per conto di tutti noi, no? Per conto nostro, o meglio per nostro mandato. Quindi se abusa del suo potere, se nell'esercizio delle sue funzioni delinque, noi ce la prendiamo ancora di più con lui, d'accordo? È per quello che i politici sono i più attaccati in assoluto. Ma molte figure sociali sono, anche altre molte figure sociali sono attaccate dalla satira. Dipende dai contesti storici, dipende dalla mentalità della società in cui si produce un certo tipo di satira. Ad esempio Lucilio se la prende con i greci e se la prende con le donne, che erano delle figure sociali spesso oggetto d'attacco, appunto, ai tempi dei romani, in particolare ai tempi di Lucilio. I temi della satira sono vari. La satira, appunto, può attaccare il politico, può attaccare la donna ritenuta infedele, può attaccare il poeta presuntuoso, può attaccare l'avvocato corrotto, può attaccare ovviamente il politico corrotto, può attaccare il soldato che è tronfio di sé. Per certi versi è simile alla comicità plautina che caricaturizza i personaggi, in particolare nei loro vizi. Un po' anche Plauto faceva satira di certi tipi umani, di certe figure sociali fisse. Satira, satira, satira. Ma ci siamo mi chiesti da dove provenga questa parola. Facciamo un po' di etimologia. L'origine della parola satira è dubbio, almeno ci sono diverse possibili origini di questa parola. Molto probabilmente ha qualcosa a che fare con i satiri. I satiri erano delle creature mitologiche, simpaticissime il più delle volte, mezzo capri e mezzo uomini ed erano, come vedete in queste immagini, in cui loro si divertono con Bacco, perché Bacco è stato Dioniso, è stato allevato dai satiri. Loro sono animali, tra l'altro, poverete, niente contro le capre, però animali di basso livello. Comunemente la capra è ritenuta un animale di basso livello, non molto razionale, tant'è vero che ancora oggi, quando si dice, quando si vuole insultare qualcuno, non si insulta nessuno, però è capitato che qualcuno volesse insultare delle persone ignoranti e avesse utilizzato proprio il termine capra con una certa vehemenza, tra l'altro. Quindi sono capri nella parte bassa i satiri, che è la parte in cui si concentra la maggior parte dei vizi, in cui si concentrano gli istinti più animaleschi e irrazionali dell'uomo, come gli istinti sessuali e gli istinti, come dire, alla evacuazione, d'accordo? Quindi tutto ciò che è considerato più scabroso oppure sozzo, diciamo, dal punto di vista dell'esempio dell'evacuazione, è concentrato nella parte bassa, mentre la parte alta sarebbe quella dell'anima e della razionalità. Quindi i satiri rappresentano il vizio, rappresentano la lussuria, rappresentano la maleducazione, rappresentano la corruzione, eccetera, e quindi hanno molto a che fare con ciò che è oggetto d'attacco della satira. Sono appunto dediti sempre allo scherzo e vizi, perché si divertono moltissimo nei boschi, soprattutto a tendere agguati alle ninfe e ad ubriacarsi tra di loro e a giocare, divertirsi, eccetera, vivono appunto nei boschi e se volete c'è un approfondimento molto semplice, tratto da Wikipedia, però sempre valido. La parola satira potrebbe provenire anche da un piatto particolare romano che era un insieme di primizie, era un piatto misto di primizie che si offriva agli dei, no? Come offerta votiva e rappresenterebbe appunto la varietà dei temi della satira, cioè il fatto che la satira sia piena di cose diverse. Beh, l'aggettivo saturo, da qui appunto satura, da lì scusa, cioè saturo viene da satura ovviamente, significa appunto pieno, colmo, ricco di, pieno di tante cose, sono saturo, sono proprio pieno di troppe cose, di tante cose. Oppure potrebbe provenire, la parola satira che indica il genere letterario, anche dalla satura che era un ripieno di uva, passa e altro, un ripieno con cui si riempivano i cibi, oppure dalla lex satura che era una legge che prevedeva vari provvedimenti. Comunque tutte queste proposte etimologiche indicherebbero la varietà dei temi della satira. Lucilio, cosa sappiamo di lui? Oddio pochissimo, sappiamo solo che visse nell'ultima parte, nell'ultima metà del secondo secolo avanti Cristo, che provenisse da Sè Saurunca, non conosciamo la data di nascita di quest'uomo, Sè Saurunca tra Lazio e Campania, faceva parte della classe sociale degli Equites ed era sicuramente piuttosto ricco perché poteva permettersi di studiare anche ad alti livelli e di non lavorare e neanche di impegnarsi in politica. Lucilio è proprio uno dei primi esempi di artista disimpegnato, cioè di artista che non riveste anche un ruolo politico che noi abbiamo proprio dal secondo primo secolo in poi. Vedremo che si diffonderà dalla metà, dalla prima metà del primo secolo, una certa disillusione e quindi un certo disinteresse nei confronti della politica e quindi notevole disimpegno da parte di molti autori che preferiranno dedicarsi alla composizione di opere magari ad esempio intimistico-soggettive. Fu autore di satire, fu lui l'iniziatore della satira, questo ce lo dicono moltissimi suoi colleghi del passato, moltissimi autori appunto romani del passato, molto probabilmente fece parte del circolo degli scipioni, sicuramente lo frequentò ed era in buoni rapporti con loro perché li sostiene in molte sue satire e attacca diversi loro nemici, quindi molto probabilmente era collegato a loro. Morì semplicemente gorendosi la vita evidentemente, facendo la vita del ricco signore che si diletta nella sua attività letteraria nel 102 avanti Cristo. Lucilio scrisse tante satire, scrisse 30 libri di satire di cui, il cui titolo è Sature, di cui noi però abbiamo solo dei frammenti per cui possiamo ricostruire il mondo di Lucilio da questo puzzle, da questo collage appunto di diversi frammenti. Il suo attacco nei confronti dei vizi e dei viziosi che spesso chiama per nome era piuttosto spiritoso e piuttosto aggressivo, spesso è caustico, spesso è bello pesante. Lucilio parla in prima persona inaugurando una sorta di personaggio di narratore interno che è appunto il satirico, il suo moralismo appunto tende sia a disprezzare i vizi, a metterli ovviamente in cattiva luce, che ad esaltare, quindi qui è molto moralista Lucilio, la virtù del buon tempo antico. Diciamo che porta un po' avanti il motivo del un tempo sì che le cose andavano meglio, un tempo sì che c'era la morale. Non è vero ragazzi, la morale non c'è mai stata completamente, sta a noi rendere migliore questo mondo, no? Improntarlo all'etica che più ci piace. I temi appunto delle satire di Lucilio sono temi molto vari che riguardano qualunque aspetto della vita quotidiana e quindi sono interessanti le satire di Lucilio anche da un punto di vista antropologico, socio-antropologico, perché ci danno idea anche di certe abitudini e di certi vizi, usi e costumi più o meno discutibili degli antichi romani o meglio di quelli appunto del secondo secolo avanti Cristo. Come stile Lucilio è piuttosto semplice dal punto di vista del registro perché usa il sermo, cioè la lingua parlata attestandosi su un registro medio, perché la satire o l'usus è un po' uno scherzo, un gioco non è nulla di impegnato, non è però sempre semplicissimo da comprendere, dobbiamo dire la verità, e si fa forte spesso dell'ebilinguismo, perché alla fine del secondo secolo avanti Cristo e poi dal primo in poi tutti i romani colti di un certo livello parlavano perfettamente sia greco che latino. E vediamo qualcuno di questi frammenti, no? Ecco, la corruzione di cui vi parlavo prima è oggetto di critica da parte di Lucilio. In questo frammento leggiamo, ora dalla mattina presto a tarda notte, nei giorni di festa e di lavoro, tutto il popolo e senatori senza distinzione si agitano per il foro, no? La piazza romana in cui si intrattenevano rapporti sociali, si instauravano legami politici, alleanze commerciali eccetera. E non se ne vanno mai, tutti si sono dedicati a un'unica attività, un'unica arte, riuscire a imbrogliarsi senza darlo a vedere, combattersi con la froda e gareggiare in complimenti, in adulazioni, fingersi galantuomini, tendersi tra bocchetti come se fossero tutti nemici l'uno dall'altro. Nonostante fosse molto probabilmente un filelleno, no? Perché faceva parte del circolo degli scippioni, non disdegna di attaccare certe abitudini greche un po' troppo, come dire, molli, poco virili rispetto invece al costume romano, no? Molto l'uomo adesso è uomo, no? Il maschio da puzzare, oddio no, ragazzi vi prego, quello anche no. Mi rado, mi depilo, mi striglio, mi liscio, mi agghindo, mi faccio bello, mi trucco, ok? Una certa cura, il frammento però termina qua, non sappiamo altro, però queste abitudini, questa attenzione così marcata nei confronti del corpo maschile, si diffuse effettivamente a Roma dopo l'incontro con il mondo greco, no? Ed erano delle abitudini che i romani più tradizionalisti, più conservatori, no? Che neggiavano al Mos Maiorum, non apprezzavano di sicuro, e deridevano certe attenzioni troppo marcate all'estetica maschile che loro ritenevano da effemminati, che parola terribile, ma purtroppo al tempo si usava. Un'altra categoria sociale che viene attaccata dall'ucilio, ma ragazzi da tutta l'antichità, purtroppo ancora oggi spesso le donne risentono di attacchi di tipo moralistico, molto più, ragazzi, abbiate pazienza, ma è vero, molto più che rispetto ai maschietti. E vediamo appunto questo frammento, sono le donne che vi dicevo questa categoria, e vediamo questo frammento sulle donne che tira fuori un motivetto ricorrente, diciamo, che vuole che le donne siano traditrici nei confronti dei mariti. E te credo, voglio dire, perché le donne il più delle volte erano costrette a sposare uomini molto più vecchi di loro, che neanche conoscevano, quindi se anche fosse vero che spesso le donne tradivano gli uomini, non ci troverei nulla di strano voi. Quando è con te, ovviamente in quelle situazioni, non in quella condizione, quando è con te si è contenta di qualunque cosa, se la devono visitare altri uomini, tira fuori anello, mantello, nastri. Si tratta di una donna frivola, che si è contenta di non importa quale indumento, quando è con suo marito, ma si aspetta una visita, fa di tutto per apparire e per piacere. Poverina, perché magari quelle erano le uniche occasioni in cui lei poteva avere la possibilità di incontrare magari un uomo che le piacesse, visto che il marito le era stato imposto dalla sua famiglia. D'accordo? Spero di avervi fatto capire qualcosa sulla satira e magari di avervi strappato una risata, perché la satira questo deve fare. Arrivederci!